Se il topless di Kate Middleton, paparazzata in Francia insieme al marito, è ormai cosa vecchia e quasi dimenticata, ora le nudità reali della bella duquessa di Cambridge sono di nuovo spiattellate sui magazine di Mezzomondo. Questa volta Kate, che era in visita ufficiale in Australia e Nuova Zelanda con William e George, è stata addirittura fotografata con le chiappe al vento. Avrà forse dimenticato di mettere gli slip tra una poppata e l'altra? A distanza di circa un mese dall'accaduto emerge così l'involontario siparietto Hot di Kate, che come sappiamo adora indossare vestitini molto leggeri, prontamente sollevati anche da una leggera brezza. La ragazza che ha scattato la foto ha ritrovato le immagini incriminate quasi per caso, scartate in un primo momento perché erano venute sfocate, ma la rivista Build le ha scovate e diffuse in Mezzomondo, facendo ripiombare Kate nel vortice delle polemiche. Sua maestà, la regina Elisabetta, aveva già ammonito la moglie del nipote imponendole almeno gonne lunghe fino al ginocchio, ma lo stile di Kate non cede a compromessi e se si vede un pezzettino di lato B ogni tanto, non è poi la fine del mondo, anzi la sua popolarità può solo che crescere. Grazie!